ecco l'insalata estiva che io preferisco ti servono 300 g di fagiolini capati 300 g di patate tagliate a pezzetti 4 pomodori rossi 160 g di tondo e condimenti vari versa 500 g di acqua chiudi con il coperchio e monta la campana metti nella campana i fagiolini capati e le patate pelate tagliate a cubetti chiudi con il coperchio e sbuoci 25-30 minuti temperatura Varoma nel frattempo in una ciotola tagli a pezzetti i pomodori io ho sempre qualche manina che si intrufola aggiungi il tonno sgocciolato mi raccomando quando apri il coperchio del Varoma fai attenzione a farlo dalla parte opposta dove sei tu perché il vapore è molto pericoloso controlla la cottura delle verdure perché dipende dal tipo di verdure che utilizzi e quindi eventualmente aumenta il tempo di cottura componi l'insalata con tutte le verdure per tagliare i fagiolini io uso le forbici condisci a piacere io metto basilico, origano, sale, olio extravergine di oliva e puoi mettere anche un goccio di aceto per questa ricetta ti consiglio di usare le patate rosse puoi aggiungere anche cetrioli e uova sode ecco la mia insalata estiva io la mangio anche in montagna durante le passeggiate grazie a tutti grazie a tutti